Non ci sono parole, questo è il mormorio che più di tutti serpeggiava dinanzi alla chiesa di San Giovanni Battista a Sapri, tra la gente raccoltasi per l'ultimo saluto a Gino Paesano, il calciatore, il collega, ma anche l'amico e il fratello, un 49enne che nella sua breve vita ha saputo dispensare sorrisi, disponibilità, gioia di vivere, come stamattina dicevano in tanti. All'arrivo del feretro l'omaggio dei tifosi delle Bolitane e della Paganese che lo hanno avvolto con le maglie simbolo delle stagioni disputate da Paesano nei due team, con lui anche la maglia della Juventus portata dal neonato club ufficiale di Sapri di cui Gino era socio. Poi spontaneo un lungo commosso applauso partito dalla piazza lo ha accompagnato fin dentro la chiesa. Attorno al feretro, nei primi banchi, la mamma e la sorella Luana, provate da quest'ennesima terribile tragedia, e i compagni dello Sporting Vibonati che erano con lui in quei minuti mentre giocava la sua ultima partita. Fuori dalla chiesa, volti ancora increduli, pieni di interrogativi, ma anche di affetto e di ricordi. La scomparsa improvvisa e inaspettata di Gino, ha detto il parroco Don Marco Nardozza durante l'omelia, non deve lasciarci smarriti. Le esperienze che abbiamo condiviso con lui devono trasformarsi in solidarietà, quella che chiamiamo carità cristiana. Il ricordo deve diventare preghiera, preghiera quotidiana, l'unica che può dare speranza. Con queste parole il sacerdote ha espresso la sua vicinanza alla famiglia e fornito il sostegno a tutta la comunità, scossa dall'accaduto, ma unita e vicina grazie a quel piccolo pezzo di strada affrontato assieme a Gino Paesano.